Avete mai visto un mezzo del genere? Un vero e proprio capolavoro di design anni 50? Stiamo parlando del 1954 GMC Scenic Cruiser. Questo autobus a due piani è stato prodotto da General Motors e con la sua struttura aerodinamica e il suo caratteristico tetto panoramico fu una rivoluzione nel panorama del trasporto pubblico. La parte inferiore del veicolo, che ospitava il motore e le ruote, era stata progettata per garantire stabilità e maneggevolezza, mentre la parte superiore era dedicata agli spazi per i passeggeri. L'ampio parabrezza panoramico e il tetto vetrato permettevano ai passeggeri di godere di una vista panoramica del paesaggio circostante. Lo Scenic Cruiser è stato utilizzato dalle maggiori compagnie di trasporto degli Stati Uniti, diventando un simbolo del lusso e della comodità negli anni 50 e 60. E ricordatevi di seguire Ingegneria Italia se siete appassionati di design, veicoli, motori e tecnologia.